Storia, simboli e aneddoti dei carabinieri. E' il volume che si intitola L'etica del carabiniere che è stato presentato nella sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. L'incontro si è aperto con i saluti del Rettore Luciano D'Amico, del Preside di Facoltà di Scienze Politiche Paolo Savarese e del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni Salvatore Cimini. Poi ci sono stati gli interventi del generale di divisione Enzo Bernardini e del componente del gruppo Stefano Semplici, docente dell'Università di Roma Torvergata. Il libro si articola in una presentazione, un'introduzione e cinque capitoli. Etica generale ed etica di ruolo, il bene della sicurezza, fedeli alla Costituzione vicini ai cittadini, servire la legge un esercizio di responsabilità, la persona al centro e prevenire, soccorrere, imporre infine in mezzo agli altri in divisa. L'etica oggi è questa pubblicazione che noi abbiamo messo a disposizione non solo dei carabinieri ma di chi voglia conoscere il nostro mondo. In fin dei conti noi amiamo sempre dire che se cerchiamo in tutte le famiglie italiane dopo 204 anni troveremo uno zio, un nonno, un cognato che abbia fatto il carabiniere e quindi ci sentiamo ancora più a casa quando lo facciamo con questo libro in un ateneo che è un'eccellenza e che sta costruendo con l'arma dei carabinieri dei percorsi didattici veramente interessanti. Diciamo che a nostro favore ci sono 204 anni, che i carabinieri sono stati presenti in tutte le vicende del nostro paese, che oggi ci sono 5.600 presidi. erano 4.600, con i 1.000 presidi delle estazioni carabinieri forestali noi prestiamo con grande piacere, con grande impegno, con grande sofferenza talvolta anche delle famiglie, quello che è la nostra missione essere fedeli nei secoli a questo paese.